La sanità toscana è terza al mondo a seconda di alcuni parametri, diventa dal diciassettesimo al ventiquattresimo posto a seconda di qualche altro parametro aggiuntivo. Mi verrebbe da dire che è comunque buono, insomma, al livello. Se siamo ventiquattresimi siamo un pochini ultimi in Europa, diciamo, mettiamola così. Quindi dipende dai parametri che utilizziamo per valutare. I dati Ocse ci danno al diciassettesimo posto. I dati Ocse però prendono in considerazione anche la sanità pubblica intesa come grado di soddisfazione dei pazienti, intesa come riduzione delle liste d'attesa, intesa come cure dentarie gratuite, tutta roba che noi non abbiamo. Quindi per questo poi si finisce molto in basso. La stessa cosa avviene grazie a un'agenzia neutrale svedese che fa tutti gli anni una valutazione. In azione siamo ventiquattresimi, eravamo ventitresimi. Quello che potremmo contestare a Scaramelli è questa facilità nel dire siamo l'eccellenza perché siamo terzi, secondo criteri Bloomberg, ma lasciamo perdere questo aspetto. Possiamo diventare anche quinti o sesti. Sembra quasi dimollarla questa eccellenza, ammesso che sia un'eccellenza. Io questo modo di lavorare lo contesto. Se un'eccellenza è tale si premia, non è che si penalizza. Io sono abituato a chi merita a incoraggiarlo. Scaramelli dice, per la procedzione dice, per rimanere tale bisogna cambiare. Per rimanere tale bisogna tagliare, non bisogna cambiare, che è una contraddizione in termini. Questo è l'aspetto critico su cui noi ci stiamo scontrando. La sanità toscana, se ha raggiunto buoni livelli a livello nazionale, probabilmente in Italia, è la migliore ancora oggi. Non è grazie alle riforme recenti, è grazie alle riforme passate. E' grazie all'833 del 78, che finalmente definiva una sanità pubblica, universale e gratuita per tutti. Questo era lo spirito di quella legge ed è stato stravolto completamente, perché è entrato il profit, in qualche modo. E' entrato il privato. Si sta tornando da un modello, si chiama Beveridge, quello della sanità universale, a un modello Bismarck, quello delle vecchie mutue. Pensate che a oggi gli stessi sindacati, e qui c'è tutto un ragionamento da fare rispetto a conflitti di interessi, invece di difendere il potere d'acquisto degli operai, propongono assicurazioni sanitarie integrative nei contratti di lavoro. E' una cosa incredibile, che vuol dire unipol, poi alla fine, e vuol dire andare sul privato. La stessa cosa avviene nelle aziende sanitarie. Noi stiamo preparando delle interrogazioni, perché invece di operare in sale chirurgiche come a Figline Valdarno o al Pontanniccheri, che sono utilizzate al 30-50%, l'azienda sanitaria sta sciuntando, sta trasferendo gli interventi chirurgici in una sede che si chiama Villa Ragionieri a Sesto Fiorentino, con le equip chirurgiche dell'azienda sanitaria, con i pazienti di riferimento territoriale di Figline e di Pontanniccheri. E non è vero quindi che si va a operare nel privato perché nel pubblico non ci sono le sale operatorie. Si va a operare nel privato perché evidentemente abbiamo dei vantaggi sul privato. A chi appartiene Villa Ragionieri? Lo dite a lei. A Unipol. Allora, aspetta. Neanche a farla apposta. A Unipol Cop, le cop che stanno già avanzando delle credenziali forti sulla sanità convenzionata con le ASL, vediamo queste croci viola dentro i centri commerciali. Insomma, io sono parecchio agitato su questa faccenda, nel senso che... Senta, mi...